benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi vi porto con me in un nuovo episodio di battle star una rubrica che mancava da un po sul canale una delle vostre preferite dove vi porto a conoscere alcuni dei giocatori più forti del server europeo di world of warships oggi torniamo nel mio clan tratiamo a trattare il rain e oggi è la volta di lucar giocatore ormai da diverso tempo all'interno del clan giocatore protagonista anche nel competitivo giocatori che oggi vediamo sul jacksonville un incrociatore super ship è uscito recentemente in questa partita su land of fire particolarmente difficile numero elevatissimo di testore in acqua main jacksonville contro satsuma jacksonville per quanto riguarda il reparto super ship i soliti due tre sfortunelli con il tier 9 in un matchmaking difficilissimo sul triple cap domination di terra del fuoco è un'app che avete visto anche recentemente nel king of the sea estivo del 2024 il jacksonville lo conoscete bene almeno avete visto già il video recensione nave è uscita recentemente nel stesso anticipato attraverso il faro il faro dell'asta quello che ogni tanto esce e lancia queste navi che poi vengono battute per decine a volte centinaia di milioni di crediti è stata anche la volta di questo incrociatore leggero e americano il jacksonville comandante io lo conosco molto bene non ce l'ho sull'account principale ma ce l'ho sul press account ma l'ho testato l'ho recensito è una nave che mi ha assolutamente entusiasmato l'ho considerata infatti fin da subito una nave da top ship proprio perché le sue performance in acqua erano talmente potenti talmente violente nel nello svilupparsi nel corso della partita che era impossibile non metterlo in top ship perché questo è un incrociatore assolutamente esagerato e quando uscirà dall'accesso anticipato diventerà effettivamente all'interno del tick tree dopo il warster la nave a disposizione di tutti ne venderanno a tonnellate e tonnellate perché è una nave spudoratamente potente sempre che la wargaming non decida di colpire con la mannaia e andare a nerfarlo cosa che onestamente penso che in futuro faranno perché allo stato di arnold jacksonville è sicuramente se non l'incrociatore più forte tra le supernavi è sicuramente nella top 3 dei cruiser super ship perché le sue performance mi hanno veramente disorientato come pochissime altre volte forse solamente la napolis e il condei erano arrivati a questo livello di prepotenza di gioco durante i test super ship se notate la sua formazione si è letteralmente spaccata in due con il vampire 2 che va a contestare il cap centrale c'è un numero importante di destroyer tra l'altro dovrà affrontarli attenzione ai suoi movimenti e suoi posizionamenti ma soprattutto attenzione all'uso che farà dei consumabili e soprattutto a come utilizzerà il super consumabile che vedete tasto f che va a migliorare la livello di penetrazione dei colpi cendiari del jacksonville il sale subito se notate sulle linee di sinistra ha distrutto l'udaloi di lucar che è andato sostanzialmente in in azione quasi di auto affondamento considerando che il salem era lì davanti e l'udaloi ci ha finito praticamente in trappola lui in questo momento è spottato dallo shimakaze che vedrà solo in un secondo momento e a questo punto decide subito di mettersi vicino un isolotto per riuscire poi ad avere una eventuale via di fuga qui è anche discretamente fortunato perché se guardate arriva adesso una salva di thunderer che poteva essere ancora più devastante riesce ad angolarsi il giusto per evitare la peggio contro i potentissimi 457 della marina britannica ma è questo anche particolarmente fortunato della rng una semplice di isola dalla forma strana permette alle torri pupiere del jacksonville di sparare contro la polvera rakret che si preparerà presto ad essere in fiamme costantemente nell'arco del match se guardate tra poco accadrà una cosa che non vedete praticamente mai in una random battle sennò molto molto raramente sui comandanti avete capito bene se avete pensato questo lo shimakaze che tra l'altro è senza clan e senza divisione farà una cortina fumogena guardate un po' per coprire il jacksonville di lucar cose che sono rari come una pepita d'oro in clondike ragazzi quindi quello che stiamo vedendo è una cosa incredibile finalmente un destroyer che rispetta una meccanica di gioco preimpostata dalla wargaming e utilizza il fumo non per se stesso ma per gli altri ora certo i destroyer ne sono alcuni come le gambe statiche da cortina fumogena oppure gli hybrid che servono in quel caso utilizzano il consumabile della cortina per loro stessi ma perché devono fare certe cose monocchima kaze che è una torpedo boat e al migliore emetismo tra i destroyer tier 10 utilizzare la cortina per un cruiser come lui il jacksonville può essere devastante infatti poche cose possono essere così forti in world of warship tra le supernavi come una divisione con un destroyer e un jacksonville perché se il jacksonville è messo nelle condizioni tali da poter sparare nella cortina fumogena contro tutto e tutti è come rambo in vietnam una mitragliatrice illegale comandanti quindi sparare con il jacksonville nella cortina fumogena è un lusso che dovete assolutamente provare perché vi sentirete praticamente onnipotenti nel corso della partita qui se guardate lui sta utilizzando appunto il consumabile che migliora effettivamente la penetrazione dei colpi il famoso tasto f infatti ha raggiunto la sua caricamento massimo non l'ho ancora utilizzato ma comunque mandando semplicemente colpi a segno tu hai permesso al super consabile di essere pronto di essere utilizzato quando meglio lo crederai durante la partita qui l'orange va ora in allontanamento e in coppia insieme allo shimakaze è di fatto il destroyer principale da questa parte mentre il vampire al centro è riuscito finalmente a conquistare il cap di bravo potrebbe sembrare un inizio da partita ancora abbastanza bilanciato ma vi spoiler che tra poco l'azione diventerà a dir poco precaria perché quasi tutte le navi da questa parte verranno completamente smantellate resteranno in piedi solamente l'intelligente shimakaze che avete visto prima e ovviamente lucar che è il protagonista di questo video occhio al punteggio di fine partita vi dicevo prima perché sarà qualcosa di straordinario perché poi ne parleremo qui se guardate lui ancora non utilizza il sonar forse questo è un piccolo errore di lucar infatti non aver utilizzato il sonar altrimenti i siluri forse li avrebbe evitati un siluro di prua infatti riuscirà a prenderlo questo è anche particolarmente sfornato il jacksonville ci mette un po' a rallentare un torpedo arriva e fa anche molto molto male al jacksonville di lucar qui se guardate la thunder avrebbe dovuto disimpegnare molto molto prima ma ancora la prua rivolta verso su da questo punto non può più virare se guardate da questa parte è sostanzialmente un 6 contro 3 anche se la thunder di lucar non la definirei tanto un'alleata in questa circostanza qui lui ovviamente va in kiting spara ancora da invisibile sfruttando perfettamente lo spotting dello shimakaze qui esce leggermente la raffret ancora lo spotta sicuramente sia lontana perché sa benissimo che da su da arriveranno altre navi che potrebbero ingaggiarle quindi a tutti i cosi deve cercare di sfuggire guardate la thunder è che insiste ad attaccare una posizione dove tutto il suo team è in ripiegamento tra l'altro se andiamo un velo pietoso sullo shimakaze alleato di lucar non quello ancora in vita è l'altro che è stato già affondato che di fatto comandanti si è fatto prendere come un fesso lateralmente dai torpedo però accadono anche queste cose nelle random battle il jacksonville d'altra parte affonda il main che non ci ha particolarmente insusiasmato il main alleato di lucar è stato veramente una delle peggiori navi in acqua in questa partita mentre lui sta per portare il primo affondamento sulla rapcrea tier 9 della marina tedesca arriva ora spunta comandanti il navari nave con delle secondarie piuttosto insidiose, cannoni grossi ma comandanti è anche una nave che è particolarmente soggetta agli incendi e il jacksonville è il peggior incrociatore che potresti incrociare con il navari proprio temendo gli incendi perché lui scatena fuoco e fiamme come comandanti neanche nel film del corvo ovviamente sempre prune allontanamento, ovviamente sempre cannoni piantati contro il bersaglio qui non cambia posizione perché la navari esce nella situazione di isolotto ma lui vede spuntare subito poco dopo la thunderer che sembra spingere anch'essa di fatto può contare solamente sull'auto dello shimakaze che sta facendo un buon lavoro di spotting a destra anche se in questo momento non può spotare il thunderer perché è dietro l'isola che c'è più o meno in f9 a sinistra intanto è totalmente un massacro, il nemico controlla totalmente tutta la zona di sinistra se non il cap e tra l'altro le navi in ripiegamento ovvero il de moine, il concorre e il de gross stanno soffrendo tantissimo le pene dell'inferno perché comandanti il jacksonville nemico sembra essere particolarmente capace ma soprattutto la stasuma bersaglia che sta facendo letteralmente affette le corazzate nemiche questo è un punto importante del video che vi consiglio di guardare con grandissima attenzione lui spegne l'incendio, prua a sud, non vuole molare la posizione perché teme che il nemico possa sfuggire guardate come utilizza adesso ad esempio l'air strike lo utilizza per capire effettivamente a che velocità sta andando la nave di avversaria questo perché non potrebbe farlo con i canoni perché avrebbe l'isola davanti invece con l'air strike basta anche solo vedere dall'alto quella che è la prua e la direzione della nave avversaria oltre che la velocità è un piccolo trick che vi consiglio di utilizzare anche voi perché potete vedere con maggiore facilità la direzione della nave dietro un isolotto qui se guardate lo shimakaze nemico fa l'errore di essere particolarmente aggressivo lui rallenta completamente e a questo punto giudica non gli hakei e il destroyer non può assolutamente uscirne vivo anche perché lui ha utilizzato il radar quindi lo shimakaze non può andare on spot intelligentemente lo shima cerca di mostrare da solo la prua per limitare i danni ma non cambia assolutamente nulla perché il danno subito è veramente gigantesco doppio incendio a bordo compensa con ovviamente il repair party che in azione guardate adesso perché un altro punto del video è molto interessante lui impegna lo yoshino utilizza sempre l'air strike per cercare di capire se effettivamente la navarine viene in avanti a questo punto bonus di ursi quindi ricarica migliorata del jacksonville guardate un po' il danno adesso sul navarine la prima salva quasi niente guardate adesso quando utilizza il bonus del jacksonville che in azione adesso guardate come miglioreranno le penetrazioni guardate un po' guardate il danno quasi 8k sulla prima salva altri 7k ancora altri 4 avete visto come il danno con la penetrazione migliorata cresce enormemente i proiettili che generalmente verrebbero scheggiati o comunque deviati da un'armatura classica finisco in realtà per essere completamente assorbiti dalla battleship nemica che prende enormi danni guardate un po' qui nuovamente il secondo colpo di fortuna della sua partita è perché la thunderer ha tirato troppo alto e non ha trovato la cittadella del jacksonville un altro giocatore di thunderer sicuramente avrebbe cancellato Luca in questa circostanza ma oh la fortuna aiuta gli audaci e quindi ogni tanto anche qualche piccolo colpo di fortuna può capitare ai super player di world of warships qui evita il peggio ma un torpedo lo deve per forza prendere il suono era attivo ma i suoi erano troppo veloci e in azione adesso comandanti il floating quindi sta perdendo punti vita non può riparare non può fare assolutamente nulla ma tra 3 secondi avrà nuovamente il repair party a disposizione che entra in azione proprio adesso per compensare il danno da floating e come sapete è al 100% comandanti irrecuperabile come il danno da incendio quindi cosa che vi consiglio a fare tutte le volte invece di usare damage control magari compensate con il repair party mentre il thunder viene portato in kiting un po' dai siluri e dallo spotting dello shimakaddle si sposta al centro e va verso sud questo perché se guardate il nemico ha un gigantesco vantaggio di oltre 250 punti in aumento e sta per conquistare anche il cap centrale quindi la partita rischia di volare via in un attimo avete visto come semplicemente dando un po' a istinto si può sfruttare il 152 mm americano e colpendolo in shino che non è lontanissimo gli incendi possono capitare anche con discreta regolarità lo subiettivo principale consiste nel non far sì che il nemico prenda anche il cap centrale e per adesso diciamo che ci è riuscito lo shimakaze a forza di torpedo e floating affonda la thunder all'avversario che era l'ultima nave da battaglia rimasta sul lato destro però di fatto una stazione 6 contro 2 si è alla fine capovolta con la vittoria di lukar e ovviamente del suo shimakaze alleato che ora comandanti improvvisamente e mi dispiace dirlo perché mi piaceva quello shimakaze spegnerà completamente il cervello perché fino adesso lo shima ha fatto tutte cose buone ora improvvisamente lui e il vampire faranno una cavolata dietro l'altra perché a questo punto bastava semplicemente tenere avvistati i target e tutto l'avrebbe fatto il jacksonville ma ora arriveranno una serie di errori assurdi dei destroyer alleati di lukar il primo lo potete vedere adesso la satsuma non è ancora spottata lo spotting infatti del jacksonville sul jacksonville arriva in leggero ritardo quindi il danno sul satsuma arriva solamente adesso cosa che comunque lukar riuscirà a compensare per caso del fuoco del jacksonville è talmente potente le sovrutture del satsuma sono talmente deboli che gli incendi arriveranno con una facilità disarmante infatti guardate basta anche solo che lui allunghi leggermente il tiro sulla zona centrale e non sulle torri che sono più corazzate e il resto comandanti lo faranno questi fantastici cannoni la satsuma non lo sa ancora ma è praticamente come se fosse già affondata mentre sta per arrivare anche la terza medaglia quella degli elementali ovviamente per il danno in genere sviluppato fino adesso super consumabile in azione qui poteva tecnicamente anche risparmiarselo perché tanto ormai la satsuma era rimasta con 10.000 punti vita ma stavano giuste forse due salve in più e l'avrebbe affondata anche con l'extra penetrazione dei colpi a kite ma comunque lui è voluto andare sul sicuro a questo punto motori tutti indietro perché lo Yoshino cercando ancora di contestare il cap centrale lo Shimakaze sta inutilmente giocando da lontano considerando che teme forse il radar del Jacksonville però comandanti doveva essere un po' più aggressivo perché se guardate gli ACP gli lo permettevano di fatto ora lo Yoshino è completamente unspotted perché lo Shimakaze è nato anch'esso nel fumo due destroyer nel fumo in una situazione del genere comandanti dove vi serve lo spotting sulla nave principale che deve sviluppare danno è il più grande errore che potrebbero commettere i destroyer della vostra squadra in questo caso è un errore che il suo team sta pagando a caro prezzo quando qualcuno va in cortina fumogena l'altro non ci deve mai andare è una regola che andrebbe imparata ai tier anche più bassi non si dovrebbe vedere ai tier intermedi figuratevi al tier 10 o diciamo con le supernave in acqua lo Yoshino anch'esso ormai ha fondato per Maffire intanto abbiamo superato i 322.000 danni e è arrivata anche la quarta medaglia ovvero il Kraken a questo punto c'è una nave che sta contestando il cap centrale di B temiamo che sia o il Jacksonville o uno dei due destroyer rimasti a galla ovvero uno dei due Shimakaze senza considerare che c'è comunque la Conqueror che sta pur sempre spostandosi nella zona centrale la situazione è disperata perché gli avversari hanno qualcosa come quasi 200 punti di vantaggio ma le kill fatte in queste circostanze hanno permesso un po' di compensare questa forbice che comunque si sta sempre più allargando ancora una volta lo Shimakaze non capiamo perché naviga verso nord sempre così che volesse andare a contatto con l'altro Shima il problema è che non lo fa mai questo perché teme tantissimo Radar Vastori che però ancora non si è visto nella zona centrale qui Lukar ovviamente è costretto a sparare sa benissimo che c'è un DD in zona probabilmente è quello che lo sta spottando e qui c'è forse il secondo errore della sua partita ovvero il fatto che decide di ingaggiare in campo aperto mentre avrebbe dovuto magari aspettare poi ritornare in un secondo momento vicino agli isolotti è solo che il tempo non ce n'è comandante il nemico ha preso il cap centrale sta volando via mancano solo 4 minuti e mezzo qui diciamo che la scelta era quasi obbligata il Vampire fa questa assurda manovra verso il centro mentre Jack è stato sostanzialmente counterato ho visto anche la differenza di player ovvero Jack sono il nemico contro Lukar visto come il nemico avesse un gigantesco vantaggio di punti vita ma Lukar con le sue obbligate di tiro migliori lo ha sostanzialmente demolito ricopensando il disavanzo di punti vita qui senza neanche RPF lui intuisce che c'è un destroyer vicino perché se guardate è permaspottato qui fa un altro errore quello di non cambiare direzione in questo modo prende i colpi AP della Conqueror e si prepara a utilizzare il radar perché dà per scontato che uno dei due Shimakad deve essere per forza Nord e infatti è quello che lo becca radar in azione come sapete fino a 9 km il radar che dura oltre 40 secondi lo Shimakad ancora non lo sa ma sostanzialmente è morto perché non può assolutamente fuggire a un radar che arriva fino a 9 km considerando che 7,5 infatti danno in arrivo ovviamente Sonar per evitare i siluri dello Shimakad che quasi sicuramente ha torpato e ancora una volta i due storie drono praticamente a corta distanza non spottano nulla e Lukar non può sparare e finire la Conqueror può farlo solo adesso qui ovviamente gioca di timoneria cerca di virare al massimo tiene il timone a sinistra e il tiro bloccato sulla Conqueror perfetto all'interno del primo spread e susurri evitati altri colpi ancora sulla Conqueror che tra poco utilizzerà il suo Super Repair Party come sapete gli permette di conquistare migliaia e migliaia di HP in pochissimi secondi ma contro il costorato di fuoco e gli eventuali incendi c'è ben poco che possa fare anche quel Super Consumabile chi viene spottato sicuramente dall'ultimo Shimakaze che è ancora in zona riesce di fatto ad affondare la Conqueror che ormai è praticamente morta grazie anche all'uso del consumabile che migliora la penetrazione ma comandanti questo colpettino che lui prenderà per un soffio sarà letale riesce comunque a tirare ancora sulla Conqueror che ormai è praticamente affondata è arrivato addirittura a 430 e passa a mila arriva ora l'affondamento sulla Conqueror ma la Jacksonville varia lì e affonda anche lo Shimakaze è rimasto qui le storie che giocano uno vicino all'altro hanno commesso una serie di didastri dietro l'altra bastava che le storie giocassero separati in modo che Radar nemico non avesse un punto di riferimento invece no entrambi uno vicino all'altro e alla fine Jacksonville affonda anche il Vampire e la partita è persa attenzione al punteggio finale perché sarà qualcosa di incredibile ma veramente di incredibile infatti andiamo ad analizzare i numeri finali che sono molto importanti come ho detto 4 medaglie elementali Confader, Kraken, High Caliber 930 colpi a segno 436.000 danni 8 incapacizzazioni 6 kill fondamentalmente considerando che sono rimaste in vita due navi nemiche e lui ha affondato circa il 75% dell'intero naviglio avversario 10 basi difese sui due cap di Bravo e di Charlie una base catturata 3 spotted ma occhio adesso guardate il punteggio base nonostante abbia perso 2781 sapete cosa vuol dire? vuol dire che se avesse vinto se avesse vinto avrebbe fatto probabilmente una partita superiore ai 4200 un gigantesco punteggio monster all'interno di World of Worship cosa che il Jacksonville comunque può fare perché una nave straordinaria nel suo team grande partita del Vampire tutto sommato dello Shima che comunque hanno giocato bene anche se sono stati poi i motivi della sconfitta nella parte finale però le navi che veramente hanno cazzato la sconfitta nella sua squadra sono state le corazzate guardate un po' infatti Thunderer fortissima terz'ultima main super ship una nave che doveva dominare il team quart'ultima per non parlare poi della Rapport e della Degrosse cioè il intero reparto batteship della squadra di Luker è completamente mancato mentre dall'altra parte Satsuma e Concord sono arrivate prime e seconde con delle oneste partite anche se non eccezionali l'era solo la differenza l'ha fatto Jacksonville con il radar prima su Alpha e poi su Bravo in direzione di Charlie per quanto riguarda il taglio di spotting diciamo principale di tanking un milione e mezzo tutto sommato Jacksonville poteva fare anche di più comunque Luca ha roteso perfettamente le cortine fumogene e soprattutto le isolotti per proteggersi una partita straordinaria buttata via sostanzialmente da due giocatori che a un certo punto hanno spento il cervello le batteship lasciamo perdere perché quelle proprio è come se non fossero scese in acqua grazie a Luca per la conovisione del replay veramente una grande partita un giocatore che doveva per forza aggiungere all'interno di World of Worship Battlestar come sempre sul finale di video vi ricordo che noi siamo là entro una settimana Twitch è lì che produciamo i nostri video è lì che abbiamo effettivamente i nostri main producement è lì che produciamo tutto quello che poi finisce anche qua dentro se vi piacciono i nostri contenuti se volete dare veramente una mano al canale vi basta collegare il vostro Amazon Prime a Twitch ottenere Prime Gaming in maniera gratuita vi potete abbonare per 30 giorni e supporterete il canale diventando di vere e proprie colonne del mio canale l'abbonamento dura appunto un mese poi si può rinnovare sempre in maniera gratuita basta ottenere sempre l'Amazon Prime gratis attivato sul vostro profilo se invece volete comunque dare una mano a una naveta Amazon per l'abbonamento costa circa 5 euro nel mese di settembre è comunque in sconto costa solo 3,70 euro e poi si rinnova di mese in mese quello diciamo per i supporter più accaniti un grazie un abbraccio sempre gigante che si attiva in questo modo perché il modo migliore è per spendere poco o niente nel caso del Prime e supportare direttamente me e il barone nelle nostre avventure qui tra i mari di World of Worship a bordo del grande Jacksonville la nave più rotta forse tra le super ship attuali e tutto noi ci risentiamo qua probabilmente giovedì con un nuovo video come sempre comandanti buona caccia grazie a tutti